www.gadgetminchia ma dov'è che ci fanno chiedere? Lego Dimension ma cazzo fai che darmelo per usare? apri il pubblico sei un coglione era per il pubblico prima o poi partiamo news? Lego Dimension? no Warner Bros, Lego Dimension ciao a tutti in questo nuovo video io e vento saltato tutti i cecchi perché tutti i cecchi c'è il sole davanti c'è un tempo a pecorelle non fa tanto e non solo un tempo ed è il primo giorno a pecorelle viale cazzo buffo 12 campagna ho scritto invece di campagna gira a sinistra devi stare zitta ma inquadra un po' anche te non l'udio io sono il cavalletto ma che cosa fai? inquadro il cavalletto però il cavalletto di solito neanche parla quindi almeno se parli adesso nitrisco devi fare un nitrito un pochettino piovuto piccolino è un cavalletto come è il nitrito hai visto i miei che ho fatto sull'ultima live? si li ho pubblicati io ve li ho passati no è solo a fine quella sono uno più bello dell'altro ma anche quello del braccio dell'orecchio mi fa impazzire è immaginata è il mio braccio si infatti sei un coglione bello mi ha posizionato giusto il forno un po' lento e poi magari mi ha fatto notare la faccia sedia che avevo intanto che ho detto quella puttanata sulla vite bella mi sono ribaltato una seconda volta non ci ho fatto caso autunno c'è la necchia adesso sono effetti speciali e ho cambiato atomizzatore adesso 18 secondi adesso si uccide le guardie imperiali perchè? si chiamavano atomizzatore blaster dell'impero in Italia ah è vero? la solfa non cambia inquadrati anche tu ma perchè? devi inquadrare un po' tutto guarda ti inquadro il specchietto ci sono anch'io ma se teniamo giù i finestrini e spegniamo l'aria confezionata 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 l'aria confezionata giri sta cazzo di merda di telecamera ecco ecco signora ma cosa ti aspetti da questo evento di oggi? finchè non metti la telecamera frontale non parlo si puoi anche spegnerlo cosa ti aspetti da questo evento di oggi? non parlerò stai guardando tutti e due non stai guardando solo me? no si fidati guarda vabbè ripeto finchè finchè non metti la telecamera frontale non parlo fa un video muto faccio queste sono quelle situazioni in cui una ha una telecamera acceso in macchina e poi succedono cose tipo arrivano gli alieni e tu li riprendi per culo di qua vai o vai a sbattere contro la vecchietta e poi scappi questo gli puzza la vita schiacciamo che fatto? scendo qua non devi parlare di certe cose alla Dirk ma che è il blu di questa macchina? che blu è? è il blu punto blu ottagno no non è il blu ottagno è l'ottagno basta un uomo quello sai che colore sarebbe stato quello? un blu stato che gli uomini non hanno questa percezione con il colore la pesca è un furto non è il colore l'ottagno è il nick è il nuovo nick di Luca Fran l'ottagno no non lo mai è è bruttino per il tempo non puoi andare a a 50 all'ora in una strada dove devi andare a 50 da qua è una strada a 70 all'ora no è al cellulare la zoccola guarda la buona battuta che hai fatto tu a casa secondo te è meglio se li leggo oppure noi capelli e lei fa è meglio se li leghi si ho dato una testata così di spigolo sulla porta e te l'hai detto è meglio se li dimension ecco l'altro coglione te l'ho detto che è una brutta malattia l'hanno unito ma se incontriamo un targhe o persone bisogna censurare devi si finito il video tu no tu però non mi hai dato quindi adesso lo taglio no non lo taglio no quello che dicevo io non tu cosa ti aspetti da lego nation perché l'hai chiesto a me e non ho risposto quindi a milano mi mancavi eh un secondo dopo che non sei partito ti suonano mi aspetto mi aspetto mi aspetto un altro ho visto che c'è una storia originale perciò sono curioso di di vederla e non so bene cosa aspettarmi invece tra nell'interazione tra personaggi diversi visto che ognuno ha una storia originale dei suoi poteri sono curioso come l'hanno gestita io Ghostbusters sicuro lo voglio ora a me intriga quello di Harry Potter ma è più giocare a 15 immaginavo tra l'altro sono arrivato a un terzo del libro nuovo che sembra una fan fiction scritta male cosa? esatto un po' mancare di strego ma cos'è questa cosa? cazzo suoni che è rosso e questo lo schiacciamo ah l'hai capito che io non mi sarei fermato ciao mi ha scritto nelle stelle che quello moriva no 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 che belli occhi che hai adesso mi diratti di moda quindi qua scendo ti faccio scendi ti faccio non penso che tu ti abbia sentito 620 forse ha sentito un brillo nella forza ma le parole non le ha sentite se vuoi torno indietro gliele dico vediamo il pullman che state bene c'è addosso mi dice ragazzi tu sei poi tra l'altro sei di Milano e dovresti sapere queste cose io non sono di Milano vai dritto è tua madre va dritto so che devo andare qui beh lo sai perché tu lo dici lei che c'è la cartina non è che se vuoi per piacere tra l'altro poi dobbiamo anche trovare il parcheggio ma no ci sarà il parcheggio apposta per i giornalisti come al solito no come al solito quando era ironica mi si era smollata la mano tra in quella giù l'hai rimollizzata il cavalletto si inizia a subire è un po' vecchio il cavalletto i primici di venti eh? eh? nessuno ha chiesto di sparere eh? i primici di venti del tempo dopo 100 metri me lo devi succhiare dopo 100 metri bene adesso li contiamo 200 metri gira a destra fuori shura se non ti levi ti seguo veramente tutta via! proprio le gambe pensavo che fosse un altro posto sessuale shura la seguo è un problema che sai magari attenzione a questo lo schiacci l'ho un po' accuto ma che pacco che c'è c'ha poco da vivere che schifo è nascosto gli sacchetti da spesa c'era il pacco di sigarette si la stecca di sigarette esatto mi sembra che 10 o 15 km fa ne mancavano 9 di chilometri adesso siamo a 6 non ce la faremo mai no no io però non vedo più la strada adesso vai a sinistra non qui allora sono andato perchè non qui? più mi ero affezionato all'audi mi sto pre incazzando e a Milano non mi tiro capito? dieci anni ci danno se faccio vedere questo video fra gli insulti la gente che deve morire nei droghi e la velocità perché la butta così la chiave esatto mi sta girando il cazzo in una maniera fotonica fai leicottero? arrivo là in volo lo metto fuori e voliamo con la macchina a bel dettuccio che vogliamo hop hop gadget hop hop gadget minchia ta donna mia questa sarà l'introduzione del video hop hop gadget minchia l'inizio lato G il punto G devono trovare cosa fanno panini? skate non lo so non lo so io solo che vorrei tirar giù i santi quel fucile a cecchino gelato punto G è lato G che cazzo è? gelato gelato lato G lato G gelato mamma mia neanch'io non ce l'hai pensato una cosa del genere lato G mi fai scendendo andando dove sberdo stampa Tello vieni ma è una zona proprio di nomi di nomi così vabbè tutti i fantasiosi da quel lato G c'è stampa Tello il proprietario si chiama Tello e stampa capito allora era verde è passata una macchina è diventata rosso loro siete stronzi voi. Il tuo furgo noleggio. Altro nome bello, hai visto? Ha detto appunto noleggio di stampatello. Per me il video è meglio solo più di qua perché tra un po' comincerà lo sterminio. E le bombe a mano tipo GD. Grazie a tutti. Grazie a tutti.